Buonasera mister, allora Pescara possiamo dire che il Pescara porta bene alla Salernitana due partite e sei punti, vittorie meritate all'andata e al ritorno? Parliamo di oggi, credo che sia stata meritata perché abbiamo avuto un bel po' di palle pulite e quindi credo che abbiamo rischiato qualche così nel finale ma c'era un po' di ansia da prestazione perché avevamo bisogno di questa vittoria perché come avevo detto alla vigilia se eravamo di fronte ad una scelta o facciamo iniziare il nostro campionato o se no possiamo anche andarci a casa perché questo è il campionato dove c'è la possibilità di ritagliarsi uno spazio però devi arrivarci come ci siamo arrivati oggi cioè con grande umiltà, grande disponibilità e soprattutto facendo calcio, non giocando a calcio ma facendo calcio che è una cosa completamente diversa. Direi che oggi a lunghi tratti, non per 90 minuti ma a lunghi tratti l'abbiamo fatto, credo che mi sento di dire che è una vittoria meritata e ripeto non è facile contro Pescara perché Pescara è una buona squadra, è una squadra formata da buonissimi giocatori perché credo che Pescara non vorrei dire una sciocatoria, ci abbia il terzo attacco del girone quindi vuol dire che c'è qualità e organizzazione però il fatto di aver fatto tutto questo a Pescara contro Pescara è sinonimo di un piccolo passo avanti, non un grande passo avanti.